Dalla ricerca di persone sono derivate le nuove attività olfattive in chiave ludica. Esse hanno diverse funzioni tra le quali divertire il cane, aiutarlo nell'acquisizione della concentrazione e molti colleghi le adoperano per la risoluzione di problemi comportamentali. Esse consistono nel cercare un'essenza, un gioco o qualsiasi odore che ricordi al cane il proprietario. Le attività di ricerca sono date a tutti i cani, di taglia e di sesso e senza distinzione di razza e sono un toccasana per i cani che stanno divenendo anziani. Si possono praticare ovunque, nei prati, nei parchi e addirittura nel giardino di casa. Serve poco, un guinzaglio lungo e qualche bocconcino per cominciare. L'importante è che sia voi e sia il cane vi divertiate nell'attività che state svolgendo. C'è da fare una precisazione però, non c'entrano nulla con l'attivazione mentale che è un'altra attività e con un altro scopo. Grazie per averci ascoltato e continuate a seguirci sui nostri canali social.